Ora Alexander per Jaité, che rischia di perdere il pallone, anzi lo perde perché poi le mani del Ciaccio arrivano anche su questa palla. Alviti in transizione spara da tre con coraggio, sbaglia! Ma arriva a rimbalzo con la correzione Paul Biliga. Mamma mia che atleta Paul Biliga, si fa perdonare i due liberi sbagliati, nessuno lo taglia fuori. Alviti bravo a prendersi quel tiro in transizione e poi Biliga ci mette un punto esclamato.